dai che partimo! bravo! è mezz'ora che partiamo! è mezz'ora che partiamo! è mezz'ora che partiamo! hai capito? quante mettemo le mani addosso tutti quanti! cominciare c'è paura! siamo il pungibolo della gente quanti anni ha lavorato a Roma TPL? ho lavorato dal 2002 al 2019 in questi anni quante volte le è capitato di essere aggredito verbalmente o fisicamente? una marea di volte è capitato a me che sono arrivato in ritardo al momento in cui sono arrivato in ritardo la gente mi ha aggredito al modo brutto questo, brutto quell'altro, tutte le parolacce siamo un'ora e mezza che siamo qua così, con lì, con lì, con lì e io gli ho detto guarda non è colpa mia non so se erano rumeni, polacchi, erano stranieri, non erano italiani mi sono trovato queste quattro persone addosso che mi hanno strattonato tolto dal posto di guida mi hanno rotto due bottoni, tre bottoni della camicia ho dato qualche botta in testa e poi mi sono trovato che a un certo punto dopo dieci minuti, venti minuti è arrivata la polizia il cosso, vai schifo!